Ciao a tutti e benvenuti in Cucina Origami. Io sono Elena e oggi facciamo un velocissimo e buonissimo salmone allo zenzero con salsa al limone. Peliamo e tritiamo 20 grammi di zenzero e pestiamolo leggermente per tirar fuori l'aroma. Mariniamo 400 grammi di salmone con un cucchiaio di vino di riso, un cucchiaio di salsa di soia e ricopriamolo con lo zenzero. Lasciamolo marinare 20 minuti. Nel frattempo tagliamo un cipollotto separando la parte bianca da quella verde. Tagliamo uno spicchio d'aglio e spremiamo il succo di mezzo limone. Una volta marinato puliamo il salmone dallo zenzero e tagliamolo in quattro parti. Rosoliamo per un minuto perlato. Aggiungiamo la parte verde del cipollotto e la marinata rimasta filtrata. Copriamo con il coperchio per un minuto e poi passiamo alla salsa. Soffreggiamo la parte bianca del cipollotto con il pezzetto d'aglio. Aggiungiamo un cucchiaio di salsa di soia, il succo di limone che abbiamo spremuto, un cucchiaino di zucchero e 100 ml di acqua in cui abbiamo sciolto un cucchiaino di amido di mais. Lasciamo asciugare due minuti e il piatto è pronto. Al posto del salmone potete utilizzare anche un altro tipo di pesce a colpa compatta per esempio il merluzzo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, gli ingredienti come al solito li trovate giù nell'info box. Grazie per avermi seguita e noi ci rivediamo al prossimo video di Cucina Origami. Ciao! Ciao!